Buongiorno 8 e 28 ben ritrovati con l'informazione di tv 2000 edizione flash vediamo le principali notizie missili sulla Polonia cautela sull'attribuzione di responsabilità siamo d'accordo di rimanere stretto contatto per determinare i passi successivi appropriati man mano che le indagini procedono lo afferma un comunicato congiunto dei leader del g7 della nato al termine della riunione d'urgenza convocata a bali l'ipotesi sul tavolo è che si tratti di un ordigno della contraerea ucraina ieri molto impegnata e mentre in indonesia si parlava di pace infatti l'ucraina veniva colpita da una pioggia di missili russi contraerea in azione per ostacolare un centinaio di ordigni lanciati su infrastrutture civili danni gravi 7 milioni di case sono senza corrente elettrica improbabile che sia russo il missile caduto in Polonia ieri sera uccidendo due persone lo ha detto il presidente degli stati uniti biden la nato avrebbe tracciato il percorso e fornito queste indicazioni alla Polonia oggi alle 10 riunione d'emergenza del patto atlantico la maggioranza dei membri del g20 condanna la guerra e rinnova il pieno sostegno all'ucraina i leader richiamano poi al rispetto del diritto internazionale definiscono inopportuno che si minacci l'uso di armi nucleari questa la nota finale del g20 di bali diffuso poco fa la premier meloni parlerà alla stampa intorno alle 11 questione migranti e rapporti con la francia il ministro dell'interno piante dosi riferirà oggi in senato e domani alla camera prosegue la stretta di parigi ai confini con l'italia con presidio rafforzato a 20 miglia e controlli sui sentieri di montagna e per combattere l'immigrazione clandestina intervenire sulle navi delle ong il governo pensa all'applicazione di sanzioni amministrative che consentirebbero anche la confisca delle imbarcazioni che intervengono in mare aperto è un'ipotesi emersa ieri durante la riunione con i capigruppo tra gli obiettivi fare sì che le attività in mare siano organizzate e comunicate alle autorità capitolo covid chi è contagiato potrà uscire dall'isolamento dopo cinque giorni e senza tampone finale il ministro della salute schillaci intende accogliere la proposta dell'ospedale spallanzani di roma sulla riduzione della quarantena per gli asintomatici e anche oggi come ogni mercoledì alle 9 trasmetteremo in diretta qui su tv 2000 l'udienza generale di papa francesco da piazza san pietro andiamo avanti sempre stamattina alle 9 e 30 si riunirà a roma il consiglio permanente della cei in sessione straordinaria al centro della riflessione un aggiornamento sul cammino sinodale della chiesa in italia nel secondo anno di itinerario che sta impegnando le diocesi della penisola ed è ufficiale donald trump si ricandida alla presidenza degli stati uniti nel 2024 la corsa alla casa bianca conosce quindi un nuovo snodo ma non tutti i repubblicani sono d'accordo l'annuncio è arrivato ieri durante un evento nella residenza di donald trump a marlago in florida minori maltrattati in un istituto religioso di ischia la madre superiore e altre tre suore sottoposte al divieto di dimora in campagna è il bilancio dell'indagine dei carabinieri sull'istituto a casa micciola terme che ospita bambini in attesa di adozione o allontanati dalle famiglie dal tribunale la banca centrale europea torna a lanciare l'allarme per l'impatto dello shock energetico sui poveri le fasce più deboli e rischiano un default sistemico ha scritto ieri nel rapporto sulla stabilità finanziaria lanciato il razzo verso la luna la prima missione senza equipaggio del programma artemis diretto a verso l'orbita del satellite il lancio è avvenuto dal kennedy space center a cape canaveral dopo una lunga attesa e stelle lode acquista tom ford in un accordo valutato quasi 3 miliardi di dollari il maggiore nella storia del colosso della bellezza con l'acquisizione stelle lode entra a gamba tesa sul mercato della cosmetica extra lusso 8 e 33 fra pochi secondi per il momento l'informazione finisce qui torniamo con tutti gli aggiornamenti però alle 12 rimanete su tv 2000 arrivederci